Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini sul territorio del Comune dell'Aquila saranno installate 879 nuove telecamere di videosorveglianza. L'operazione è finanziata con 4 milioni di euro provenienti dal Fondo Complementare al PNRR. Il nuovo progetto di videosorveglianza è stato illustrato nella sede comunale di Palazzo Fibbioni dal Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e dall'Assessore alla Sicurezza Fabrizio Taranta. Presenti rappresentanti della Prefettura e dei componenti del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza. La ditta che si occuperà dell'installazione delle telecamere sarà la Sicuritalia. In particolare 476 occhi elettronici troveranno posto all'Aquila città, 403 invece saranno posizionati nelle frazioni del capoluogo d'Abruzzo. Le telecamere saranno di tre tipi, canonica fissa con visuale a 360 gradi e specifica per la lettura delle targhe dei veicoli. La sala di controllo centrale sarà prevista nella sede del Comando della Polizia Municipale dell'Aquila. Ci saranno poi tre postazioni distaccate nelle sale operative di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. Un progetto che andrà a coadiuvare le forze dell'ordine sia nell'attività di controllo e monitoraggio che nell'attività poi di indagine a posteriori perché avremo una service room in cui le immagini verranno registrate per sette giorni, 24 ore su 24, la possibilità di visionare attraverso il Comando di Polizia Municipale le immagini di tutte le telecamere in diretta 24 ore su 24, così come presso la Questura e i comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza. Il 25% delle telecamere di videosorveglianza previste nel Piano sarà installato entro il 31 dicembre di quest'anno, un altro 50% entro fine 2024, l'ultimo 25% entro il 30 giugno del 2025. Dove saranno installati nello specifico? Copriremo un'area di circa 473 km2, cioè tutta la città dell'Aquila, non soltanto il centro storico, la città intesa come città in sé, ma anche tutte quante le frazioni, le vie d'accesso, i parchi principali, monumenti, luoghi di aggregazione pubblica, progetto case, una copertura pressoché capillare su tutto il territorio, condivisa ovviamente con le forze dell'ordine che hanno dato anche le loro indicazioni. Ringrazio il prefetto, il questore, il comando provinciale dei Carabinieri, il comando provinciale della Guardia di Finanza che hanno collaborato per decidere quelli che erano i maggiori punti di interesse, le zone più a rischio, un percorso iniziato da tempo sul quale abbiamo lavorato molto e oggi finalmente grazie all'approvazione il 20 luglio presso il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza in Prefettura, quindi che ci ha dato il nulla osta per proseguire e che ha validato sostanzialmente quello che è il progetto definitivo. Adesso avremo finalmente la possibilità di vederlo realizzato in città e di iniziare i lavori.